Sisma assiste Caterina. Questa è mia sorella Caterina. E sento che lei deve dire qualcosa, velocemente anche. Ho sempre creduto in un Dio. E quando ero giovane sentivo Dio che mi voleva far innamorare. E mi mostrava il mio futuro e mi mostrava che la vita deve essere piena. E che c'è qualcosa in quello che facciamo che ha un valore eterno. Io vengo da una famiglia difficile dove mia madre era schizofrenica. Ero molto isolata. Ma ho sempre sentito Dio toccare il mio cuore. Ma non sapevo in realtà chi fosse. Sapevo la sua natura, sapevo che era amore. Durante i miei anni di adolescenza Cercavo amore nei posti sbagliati ed ero molto promiscua. E questo stava peggiorando continuamente Mentre crescevo con me. Fino al punto che se avessi continuato ad andare avanti sarei morta. Quando avevo 18 anni ho incominciato ad essere sempre più affamata per conoscere chi fosse Dio in realtà. Perché mi incominciavo a ricordare che Dio mi aveva rivelato quello che la vita in realtà doveva essere. Sono cresciuta, molto disconnessa da quello che era il mondo e molto depressa. Al mio diciannovesimo compleanno allora ho detto Dio io non posso più vivere così. Io ho gridato a Lui e Gli ho chiesto di venire nella mia vita. Io non sapevo in realtà chi fosse ma Gli ho chiesto di rivelarsi nella mia vita. In un paio di notti un uomo mi è apparso nei sogni ed era bellissimo. Non era proprio come mi immaginavo Gesù ma il mio spirito riconobbe chi era davanti a me. E ho trovato divertente che Gesù venisse nei miei sogni conoscendo già i miei problemi. Lui mi è apparso conoscendo quel punto in cui io ero. Perché io avevo un problema con la lussuria. Adesso io ho la tua attenzione. E' veramente carino. Per settimane e mesi dopo questo le cose più pazzesche che mi continuavano a succedere. Le immagini, le visioni che avevo quando ero giovanissima incominciavano a crescere, ad aumentare e Dio mi si stava mostrando con me per chi era. Perché Dio, e questo è il modo in cui Dio mi parla, Lui mi parla attraverso immagini. Allora continuava a mostrarmi il suo amore, continuava a versare il suo amore su di me e mostrarmi quanto mi amasse. Anche se non avrei mai pensato di diventare una cristiana e sapevo che questo era la verità. E Dio non mi avrebbe mai lasciato andare. E sto crescendo e sto imparando sempre di più di chi lui è perché lui è così bello. E lui ci cerca ogni giorno. Tutte e tre queste testimonianze hanno lo stesso tema. Lui è il tema. Tutti e tre cercavano qualcosa. soldi, donne, uomini, compagnia, amicizia, fama, droghe e tutti loro dopo anni e anni di ricerche tutti e tre loro erano vuoti. Sai cosa? Io ero esattamente la stessa cosa allo stesso punto. Io ho incontrato Gesù dodici anni e mezzo fa mentre stavo rivendendo droghe. e ero tornato a casa e ho acceso la televisione alle quattro del mattino. E c'era un predicatore che stava predicando. E tu non hai idea di quanto ero pessimo. Tre settimane prima avevo preso mia madre per la gola e l'avevo minacciata di ucciderla. Ragazzi, io ero proprio andato. Io non stavo camminando con Dio. ero una persona peccaminosa. Dopo aver buttato migliaia di dollari nell'ecstasy sono tornato a casa alle quattro del mattino perché tutte le droghe tutte le donne tutte queste cose stavano facendo di me soltanto una persona peggiore. Io facevo finta di essere felice ma ero seriamente vuoto. Io mi guardavo allo specchio e effettivamente io mi odiavo. Ricordo una volta guardandomi allo specchio mi sono cominciato a fissare negli occhi per 30 minuti. E mentre mi guardavo nello specchio potevo vedere demoni e cose nella mia faccia. E guardarmi soltanto negli occhi nella mia faccia mi sono staventato ma ho continuato ad andare. Ho continuato a correre lontano da quello che sapevo fosse il vero amore. Onestamente io non so dirti perché stavo correndo lontano soltanto posso dirti che lo stavo facendo. Perché nel mio cuore sapevo che Dio era reale. Io lo sapevo. Io stavo mentendo a me stesso. Ma questa mattina quando tornai a casa alle 4 del mattino mi sono levato i vestiti avevo soltanto le miei odiavo la luce per cui ho spento tutte le luci. A me non piacevano neanche le docce calde usavo farmi le docce fredde. E a me non piaceva niente di me. Ok, dopo aver spento tutte le luci ho cominciato a fumare le mie sigarette. Ho acceso la tv e c'era un uomo che stava predicando Gesù. Ed era un po' buffo allora l'ho guardato ancora un po'. Oh, questi stupidi predicatori. Era divertente allora ho continuato ad ascoltare. Lui parlava di come usava sniffare cocaina ma continuava a essere vuoto. E stava raccontando la sua testimonianza come Gesù l'ha riempito. E in quel momento ho spento la tv. E nel buio completo la cena della mia sigaretta era l'unica cosa che brillava. ho sentito una voce e in tutta la stanza ho sentito come elettricità. Tutto. Era veramente un po' spaventoso effettivamente. E io ho sentito Gesù dire Ben figlio mio io ti amo. E' questo e basta. io ero un rivenditore di droga e lui è venuto da me per dirmi io ti amo. Avevo una sigaretta nella mia mano e Gesù non è venuto per dirmi butta la sigaretta. Gesù non è venuto per dirmi accendi le luci e mettiti qualche vestito. Dio non mi ha detto niente riguardo il fatto che vendevo droga e il fatto che facevo sesso Dio Dio ha parlato direttamente al mio cuore e questo è quello che ha detto Ben figlio io ti amo. E in questo momento sta dicendo la stessa cosa a te. Alcuni di voi pensano di essere felice addirittura mostrano di essere felice esternamente ai propri amici ma tu non sei felice? E noi siamo abbastanza bravi io ero bravissimo a manipolare potevo fare credere a qualsiasi cosa. E allora è per questo che ogni notte io dovevo prenderne una nuova prostituta perché questo mi faceva sentire ogni sera una persona nuova. E allora provavo ad avere più cash e diventavo più violento così che la persona potessero avere paura di me e guardavo tutti i film di mafia e pensavo a cose peccaminose ma tutto questo era una maschera. dentro di me io stavo morendo la mia coscienza era morta mi ricordo che quando ho preso mia mano dalla gola e le ho detto io ti uccido non mi sono neanche sentito male in colpa è come se ogni cosa in me fosse anestetizzata e per questo è che io spegnevo le luci e facevo docce fredde non avevo più niente di vivo in me ma quando Dio ha detto Ben figlio mio io ti amo è come se qualcosa fosse entrato in me tutto il mio corpo è incominciato a scuotere e finalmente tutto quello che io avevo cercato per vent'anni nella mia vita era lì in quella voce e allora sono andato a letto e quella notte per un'ora ho sentito Gesù parlarmi e lui mi ha detto io ti manderò in posti intorno a tutto il mondo e dovrei dire alle persone riguardo dovrei parlare alle persone di me e di quello che io ho fatto in te e ragazzi voi non avete idea io avevo terrore dei trasporti pubblici dell'aereo tutto questo non mi piaceva parlare a un microfono non mi piaceva stare con le persone ma lui ha detto tu andrai in giro per il mondo alle persone amo quello che ha detto mio fratello che anche lui era nelle droghe tu chiamerai persone a casa tutti i quattro noi non siamo le classiche persone da chiesa io fornicatore e venditore di droghe musicista drogato un professionista giocatore di poker che ha trovato solo vuoto Kat che cercava un uomo dovunque ma nessun uomo poteva riempire questo vuoto tutti e quattro noi in un'esperienza sola con Dio in un momento in un momento con Dio tutto il nostro mondo è stato capovolto e siamo diventati liberi siamo diventati felici siamo diventati gioiosi e sai qual è la cosa più fantastica? abbiamo smesso di curarci di quello che tutti gli altri pensavano e ragazzi devo dire che alcuni di voi stanno vivendo la propria vita rispetto a quello che le persone pensano di voi ma Dio sta guardando la tua vita guardando dove cammini ogni giorno come parli alle persone come cerchi di impressionarle e i suoi occhi sono solo pieni di amore sugli occhi sono pieni di lacrime e ti dicono vuoi venire con me perché tu sei nato per essere mio figlio tu sei nato per essere il mio figlio io ho fatto finta per vent'anni ho vissuto nella bugia ma ogni singolo giorno io ero vuoto e quando ho incontrato Gesù ogni cosa nella mia vita ha preso un senso istantaneamente ascolta tu non hai creato la tua vita tu non hai fatto la tua vita tu sei arrivato al grembo di tua madre neanche lei in realtà ti ha dato vita tu hai uno spirito non è il tuo corpo ciò che sei è quello che è dentro il tuo corpo se qualcuno tagliasse le tue gambe tu non avresti meno della tua personalità tu sei spirito e lo spirito dentro di te è quello che sta cercando la verità e sta cercando accettazione sta cercando un significato e la maniera in cui io ci stavo provando era semplicemente essere un po' più cattivo prendere più droghe e stare con più donne onestamente però quando mi svegliavo la mattina io sapevo più chi e alcuni di voi non hanno idea di chi sono ma Dio ti conosce e Dio dice figlio mio io ti amo io ti amo io ti sto chiamando a svegliarti da queste bugie e di metterti a posto con me e lasciare il mio amore scendere nel tuo cuore e lasciarlo cambiare la tua vita perché tu vali molto di più che un po' di droga nelle tue vene tu vali molto di più tu vali molto di più tu hai uno spirito umano e il tuo spirito sta gridando perché vuoi la verità Gesù ha detto questo io sono la via la verità e la vita io sono la via la verità e la vita io sono la via la verità e la vita chiunque viene a Dio viene attraverso Gesù e Gesù quello che ha dato ognuno di noi se tu lo vuoi Dio ti darà una vita totalmente nuova lasciami farti questa domanda sei realmente felice sei davvero felice o stai soltanto usando una maschera ascolta Dio vede attraverso ma quando guarda a te lui non è arrabbiato i suoi occhi sono pieni di amore Gesù è stato picchiato ed era tutto il corpo suo era sanguinante ed è stato picchiato più di quanto chiunque qui è stato mai picchiato e mentre stava lì appeso con tutta la sua carne tagliata sai cosa ha detto? Padre perdona loro anche in questo stato l'amore stava venendo fuori da lui chi non vuole un amico così? tutti voi sapete nel vostro cuore che vuolete dire sei soltanto spaventati da quello che possono pensare le persone ma ascolti tu non puoi continuare a vivere per quello che le persone pensano tu devi scegliere e tu scegliere ma so questa cosa che oggi Dio ti sta guardando con occhi d'amore io oggi faccio di te una persona totalmente nuova lui l'ha fatto per me e io probabilmente ero peggio di tutti voi Daniele lo stesso Samuel lo stesso Caterina lo stesso Dio ha trasformato ognuna delle nostre vite ma è soltanto attraverso la sua grazia che lui può fare di te la persona che vuoi veramente essere però devi arrivare a lui devi andare a lui qui è la mia domanda adesso stasera vuoi dare il tuo cuore a Gesù e lasciare che lui ti perdoni che lui ti mostri perché stai vivendo voglio che tu pensi molto bene adesso prima che finisco lascia che queste parole possano entrare in profondità nel tuo cuore sei veramente contento hai realmente pace se tu non hai pace e non sei felice ti chiedo in questo momento alzati in piedi e dai la tua vita a Gesù se invece vuoi rimanere spaventato di tutto quello che le persone possono pensare di te come sei seduto io usavo comportarmi così male con le persone ma dentro ero veramente spaventato da quello che le persone pensassero di me ascolta vivi per te stesso e non per quello che le persone pensano di te se tu vuoi Gesù alzati in questo momento alzati questo è fantastico come on questo è fantastico questo è fantastico tutti ragazzi venite qua davanti venite qua velocemente vieni non è difficile vieni io sono il fratello di Ben dall'Australia io seguivo il Signore un po' di tempo fa e per me seguire Dio era tutto era tutto riguardo a quanto io facevo io non ho mai conosciuto prima Gesù o Dio come mio padre allora anch'io sono arrivato a un incrocio a un bivio pensavo che nella mia vita essere un cristiano sarebbe significato smettere di fare tutti i peccati smettere di fare tutto pensavo che per essere un cristiano dove essere perfetto tutti i giorni allora ho deciso di lasciare Dio e correre dietro il peccato ho iniziato a drogarmi scommettere alcol prostituzione niente più riguardo Dio camminavo in giro con migliaia di dollari nelle mie tasche e pensavo che ce l'avevo fatta pensavo di sapere che cosa era la vita in realtà e poi Dio mi ha preso il padre il padre è venuto dentro il mio cuore e mi ha preso il padre ha incominciato a mostrare il suo amore per me il padre mi ha detto che io sono il suo figlio non importa quello che faccio non importa quello che faccio ogni singolo giorno indipendentemente da quello lui è il mio papà e tutto quello che devo fare per seguirlo semplicemente era essere figlio e allora ho deciso di girarmi dal peccato e seguire Gesù ma sai che? prima quando seguivo Dio prima non riuscivo mai a liberarmi dalle mie dipendenze con le mie forze era impossibile adesso conoscendo Dio come padre in una notte tutte le cose sono andate via tutte le dipendenze sono andate via pornografia è andata via droghe andate via sigarette pure alcol andato Gesù mi ha liberato e Gesù vuole fare lo stesso per tutta questa città Milano ha bisogno di sapere che il loro Dio è il loro padre che lui li ama e li accetta prima che loro decidano di girarsi via dal peccato Gesù ha detto pentitevi e seguitemi Dio sta invitando tutti noi nella sua famiglia noi siamo i suoi figli e le sue figlie e lui è il nostro papà mio fratello Ben lui pregava per me tutti i giorni lui ha messo l'immagine di me nel suo telefono e ogni giorno diceva a Dio prendilo Signore prendilo prendilo Gesù e alla fine sono tornato al Signore alla fine sono arrivato a conoscere Dio come mio papà io sento che stasera Dio lo sta dicendo ad alcuni di voi questa famiglia nella tua vita e tu non sei ancora salvato e tu stai guardando alle cose che vanno storte quando devi smettere di pregare che Dio li prenda che Dio li risorga che Dio gli possa dare un incontro a queste persone con il suo amore non ti preoccupare dove sono finiti quello è peccato Dio non si cura di questo Dio non si cura di questo non dovremmo neanche spaventarci noi devono soltanto conoscerlo come il papà loro devono conoscere quanto sono amati noi dobbiamo pregare per le nostre famiglie la mano su chi ha un membro almeno della propria famiglia che ancora non è salvato abbiamo bisogno di pregare io voglio pregare adesso velocemente pensa alla persona o le persone che non sono ancora salvate pensa a loro adesso e io voglio che tu preghi e chiedi al padre padre ti vuoi mostrare a loro vuoi mostrare a loro il tuo amore vuoi mostragli che tu sei un Dio buono vuoi mostrare a loro che loro sono le tue figlie e tue figlie vuoi mostragli che loro sono tuoi signore incontrali signore mostra a loro il tuo amore prendili Gesù prendili Gesù prendili Dio prendili Gesù Spirito Santo vai vai prendili Dio prendili le nostre famiglie prendili i nostri amici li chiamiamo indietro li chiamiamo nella famiglia li chiamiamo a casa grazie Gesù solitamente ero quella persona che era rotta al di fuori delle mura della chiesa ero assuefatto alle droghe all'alcol alle gangs al crimine nightclubs nightclubs ero sul sentiero che porta all'inferno dopo ho incontrato Gesù e Lui mi ha liberato alleluia alleluia sono appassionato circa il Vangelo perché io so che è la potenza della salvezza nient'altro mi avrebbe potuto liberare solo Gesù mi può liberare mi ha potuto liberare solo Gesù può liberare le persone qua solo Gesù può liberare le persone di Milano è così meraviglioso e Lui vive in me e vive in te e vuole andare fuori lì e mostrare al mondo che è vivo e sta bene e Lui è il Re Amen ho usato così tante droghe e ho iniziato a sperimentare con la magia e tutti i tipi di cose spirituali i demoni sono entrati nel mio corpo ero veramente pazzo ero paranoico pieno di paure e un giorno ho deciso di camminare verso una chiesa di andare in una chiesa molto simile a questa chiesa qui la band stava suonando non mi ricordo quanto era bella o non bella la chiesa non mi ricordo com'era il tappeto non mi ricordo le luci carine ma io ho incontrato Gesù io ho avuto un incontro con la presenza di Dio mi sono sentito come un bambino di nuovo la mia mente è stata liberata i demoni hanno lasciato il mio corpo e io do tutta la gloria a Gesù solitamente odiavo leggere libri ho letto un libro fin quando avevo 24 anni da lì in poi no fino a lì non mi piaceva la scuola ma quando ho trovato Gesù io non potevo mettere giù la Bibbia ero così incasinato che non avevo nessun lavoro tutto quello che facevo era dare droghe e suonare la mia musica con la band ma non potevo poggiare giù la Bibbia perché non avevo un lavoro e leggevo per ore quante volte per 8-9 ore in un giorno e la parola di Dio la Bibbia stava lavando la mia mente stava lavando tutto di me e mi stava facendo totalmente nuovo la mia mente non capiva non era così non capiva di tutto ma qualcosa stava succedendo nel mio cuore c'era libertà che stava nascendo nel mio cuore era fantastico mi ricordo a volte che piangevo non comprendevo completamente ma il mio cuore capiva che questo libro era supernaturale era vivo a me non piacevano i libri ma amo questo ho amato questo era vero poi altre volte io l'avrei detto e mi riempiva di gioia e mi inizia a ridere per ore ridendo 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 e le persone ancora pensavano sono pazze io ero pazzo perché ho trovato la gioia Gesù è fantastico era fantastico attraverso questo tempo la band in cui suonavo era di grande successo anche se ero pazzo la band era ok poteva ancora suonare e nel tempo in cui sono stato salvato abbiamo firmato un contratto di registrazione e per un anno abbiamo registrato tutte le canzoni nuove incominciavano ad avere pezzi di Bibbia attraverso la canzone perché ho trovato il mio amore e io volevo cantare del mio amore e allora la band era ok ma loro non volevano che io cantassi di Dio dopo un anno il manager chi finanziava si è seduto giù e mi ha detto io amo la musica ma tu devi cambiare le parole questo tema di Cristo è troppo forte questa industria è piena di venditori di droga queste cose cristiane non possono fare bene tu devi scegliere tu sei a un incrocio cosa farai? soldi? oppure lascia stare e seguire Gesù? in quel punto dato che avevo trovato Gesù il mio cuore batteva per Gesù e anche intorno a quel periodo ho incontrato a mio amore Ben e noi predichavamo nelle strade ovunque vedendo miracoli pazzeschi ogni volta per me non c'era neanche modo di tornare indietro io ho detto bye bye registrazione io seguo Gesù lui mi ha liberato e adesso sono più felice di mai e lui vuole liberarti e fare tutto il mondo per Gesù grazie per Gesù alleluia grazie a tutti